È arrivata l'ordinanza per l'area ex lebole di proprietà dell'imprenditore Marco Carrara. Era stata oggetto, dopo vari episodi di cronaca e degrado, di una richiesta urgente di sopralluogo da parte del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. I sopralluoghi erano stati chiesti alla ASA, all'ufficio edilizia del comune di Arezzo e alla Polizia Municipale. Dalle risultanze di questi sopralluoghi, adesso ne è scaturita una vera e propria ordinanza dirigenziale. L'area deve essere riportata ad una condizione di decoro, igiene e sicurezza entro i prossimi 60 giorni. Si va dalla rimozione della vegetazione infestante e secca, facile e innesco per incendi come effettivamente è capitato, ai depositi di rifiuti sparsi, composti da legno e cartongesso che devono anch'essi essere rimossi. La recinzione esterna, come spesso hanno testimoniato le nostre immagini, aveva dei varchi aperti e questi sono stati già chiusi. Gli immobili sono stati però giudicati in parte ammalorati. La proprietà è stata così avvisata di ciò che era in violazione del regolamento urbano e adesso avrà 60 giorni di tempo per tutti gli adeguamenti richiesti.